Avete notato che abbiamo messo un punto interrogativo nel nostro primo titolo da lunedì prenotazioni per gli over 40 ma è un interrogativo che vorremmo sciogliere già in queste ore nel pomeriggio perché questo è uno dei temi al centro dei lavori dell'unità di crisi regionale sull'emergenza Covid che si riunisce a partire dalle 15 all'assessorato regionale per la sanità. Assessorato nel quale proprio per anticiparci magari proprio questa notizia e darci qualche dettaglio e qualche informazione in più magari per togliere già questo punto interrogativo relativo al fatto che si potrà da lunedì effettuare prenotazioni anche essendo over 40. C'è la nostra Marina Moretti che vedo pronta con l'assessore alla sanità Nicoletta Veri. Allora a te la linea Marina per le ultimissime. A te. Sì Carmine con l'assessore Nicoletta Veri siamo in diretta perché vogliamo dare delle risposte anche ad alcuni inquisiti che ci vengono posti dai cittadini. In particolare un tema che oggi è all'attenzione di tutti è quello relativo alle scadenze dei richiami quindi alla seconda dose delle vaccinazioni. Ci sono delle direttive nazionali e all'assessore Veri chiediamo appunto quali scadenze e quali tipo di direttive si seguono in regione. Sì nella nostra regione seguiamo quelle che sono le direttive dell'EMA che vanno a definire la durata del richiamo dei vaccini. Possiamo dire che per AstraZeneca il richiamo si può fare dalle 10 alle dodicesima settimana. Per quanto riguarda Pfizer possiamo estendere il richiamo dal 21esimo, 28esimo giorno anche al 42esimo e anche per quanto riguarda Moderna il richiamo lo si può effettuare dal 28esimo giorno fino al 42esimo. In questi giorni si parla molto di questo perché Pfizer ha detto no, noi abbiamo detto 21 e quindi come dire alziamo le mani se poi ci sono problemi per chi lo fa il 23esimo, noi ve l'avevamo detto. Però c'è invece chi dice sulla base di riscontri effettivi che anche facendolo il 40esimo giorno non è successo niente. Voi vi siete regolati così seguendo anche le direttive una via di mezzo, insomma cercare di farlo il prima possibile dopo il 21esimo. Il nostro obiettivo è quello di chiudere il più presto possibile la vaccinazione per cui ci orientiamo al minor numero del richiamo, al minor numero dei giorni. In ogni caso le raccomandazioni così come sono state espresse, scritte da parte dell'EMA sono raccomandazioni che sono in sicurezza per la somministrazione della seconda dose del vaccino. L'obiettivo ovviamente è arrivare il prima possibile alla vaccinazione di tutti quelli che si vorranno vaccinare. Siamo vicini ormai anche alla prenotazione dei quarantenni. Quando? Sì, da lunedì si potrà fare richiesta di vaccinare tutti coloro che hanno più di 40 anni. Questa richiesta sarà fatta sempre sulla piattaforma delle poste e poi la vaccinazione inizierà dopo la metà di giugno perché dobbiamo terminare gli over 50 che sono quasi in tutta la nostra regione 300.000. In un mese cerchiamo di completare questa fascia di età in modo che da dopo la metà, come ho già detto, di giugno si possa vaccinare la popolazione dai 40 anni ai 50. Nel pomeriggio c'è l'unità di crisi. Avete qualche argomento in particolare sul tavolo? Senz'altro faremo un'analisi di quelli che sono gli indicatori dei nostri comuni, delle nostre zone della regione. Sarà uno degli ultimi incontri in cui si parlerà delle zone rosse perché dalla prossima settimana non sarà più una decodifica di colori ma solo di rischi alto, medio e basso. La nostra regione ha un rischio basso. Valuteremo degli indicatori di alcuni comuni e sarà proprio compito della gabbina di regia esaminare questi dati. Sì, sappiamo che ci sono ancora Celano e Sant'Egidio alla Veibrata, cosiddette zone rosse, ma sappiamo anche che l'Abruzzo è quasi da considerare zona bianca, anche se le zone bianche non ci sono in realtà. Quindi poi si dovranno vedere le decisioni anche sulle riaperture da parte del governo. L'indice importante della nostra regione è che abbiamo un numero molto basso di posti letto di terapia intensiva occupati. Anche se ci sono dei positivi non c'è una gravità della sintomatologia. Questo è uno degli indicatori importanti che viene esaminato adesso da un comitato tecnico scientifico. Il nostro augurio è che l'Abruzzo possa continuare così come sta continuando in questo momento, rispettando, come dico sempre, le norme e far sì che si possa andare verso quell'estate, quella capacità gestionale della nostra regione che mette il turismo al primo posto della nostra economia. È tutto allora dall'assessorato. Lascio l'assessore al suo lavoro e noi poi ci sentiremo naturalmente per il consuntivo dell'unità di crisi nella TG di questa sera.